Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Siamo alla ventesima edizione del Festival Internazionale del Folclore Città di Bitonto che nasce qui nel 1996 in modo molto soft Negli anni siamo cresciuti tantissimo e abbiamo invitato sempre gruppi più di alto livello Questa sera qui sono venuti parecchi gruppi da varie parti del mondo Gruppi di grande qualità che noi ricerchiamo sempre nella nostra conoscenza Questa sera abbiamo avuto il Kyrgyzstan, il Kenya, la Serbia, la Repubblica Cieca e poi come rappresentanza dell'Italia c'è il gruppo locale del Pambanel Mentre domani sera, oltre alla Serbia e alla Repubblica Cieca si esibirà un gruppo del Messico, oltre all'Italia E che dire, noi siamo contentissimi di portare questa iniziativa nella nostra città proprio perché è un emblema del folclore, una caratteristica del folclore la pace del mondo perché anche con il folclore e anche dei popoli che sono in lite fra di loro nei festival si incontrano e ballano e cantano e si abbracciano tutti quanti quindi il folclore è fond di civiltà e serve a risaltare la pace e la mitzizia tra i popoli Mi chiamo Stjepan Šmiedek, veniamo dalla Repubblica Cieca e mi piace molto questo festival perché della sua multiculturalità e dei stati che sono qui Siamo qui perché amiamo il folclore e abbiamo una passione per la nostra tradizione e amiamo il nostro paese Mi chiamo Yelena Siamo incontrati a molti nuovi persone per questo e visitiamo in partici grandi paesi come questo Radio Doppio Zero Suona ciò che ami Più suona e più la ami Siamo incontrati a molti nuovi persone per la nostra tradizione